Con i gol dei due stranieri, dei suoi due stranieri, Joao Lopez e Pedrinho, il calcio Acri batte con un secco 4-0 il Cutro che peraltro in quest'ultimo periodo stava dimostrando di essere in ripresa. Un 4-0 come dicevamo che consente alla squadra Cosentina di restare in quarta posizione in classifica e anche grazie alla sconfitta del Praia Tortora di ieri pomeriggio nell'anticipo con il Real Sant'Agata avvicinarsi quindi anche addirittura al terzo posto cercando di trovare l'opportunità di giocarsi come abbiamo detto tante volte i play-off. Quindi come dicevamo i gol dei due di Joao Lopez e uno di Pedrinho, al quarto gol è stato fatto in apertura di gara dal rigore di Feraco perché così i Cosentini hanno ottenuto questi tre importantissimi punti.